buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo della vita ma soprattutto delle opere di un grande orologiaio vivente ludwig oschlen che è un orologiaio creatore inventore svizzero che vivo ancora oggi ma che ha la sorpresa di essere nato nel 1952 a gabice ripeto non italiano ma nato a gabice mare quindi in italia nel 1952 l'opera di ludwig oschlen si dipana attraverso diversi percorsi lo vediamo come restauratore lo vediamo come orologiaio geniale che risolleva uliss narden e che crea alcuni pezzi straordinari lo vediamo come orologiaio indipendente con la sua ox e junior attiva ancora oggi quindi vediamo le diverse fasi della vita di ludwig oschlen ludwig oschlen dicevo nasce nel 52 vive in svizzera si diploma anzi si laurea in archeologia e in filosofia e già questo dimostra di base una formazione umanistica a cui però aggiunge anche una specializzazione in orologia cioè lui studia come watchmaker quindi unisce la cultura umanistica alla cultura tecnica scientifica meccanica e questo binomio che abbastanza raro nell'orloggeria spiega in gran parte la vastità di orizzonti di competenze di interessi di oschlen allora una delle prime cose che si ricorda di oschlen è la sua restaurazione dell'orologio farnese farnese clock che sta nei musei vaticani è un orologio astronomico estremamente complicato fatto da un italiano di parma di cui in questo momento non mi ricordo il nome ma non credo sia fondamentale questo orologio fu restaurato per la prima volta da ausmann proprio quelli cioè quelli che vendono ancora oggi orologi a roma nel 1902 e poiché poi da allora insomma ausmann cura la manutenzione e il restauro degli orologi del vaticano fu restaurato successivamente non sono riuscito a trovare la data esatta comunque la rigordi logica colloco fra la fine degli anni settanta l'inizio degli anni ottanta ha dovuto poi restaurarlo di nuovo e di questo si è occupato l'allora giovane ludwig oschlen era allora questo orologio astronomico estremamente complesso con tantissime indicazioni ovviamente un orologio anche di dimensioni di rilievo è un orologio che è stato concepito in un'epoca in cui non c'erano tutti gli studi matematici per dimensionare esattamente i treni degli ingranaggi epicicloidali che lo fanno funzionare quindi chi l'ha costruito l'artigiano orologiaio italiano che l'ha costruito l'ha fatto sperimentalmente oschlen ha dovuto immergersi no nella mente di questo orologiaio e delle sue sperimentazioni e grazie all'esperienza acquisita restaurando questo orologio poi potrà fare orologi da polso astronomici che saranno una delle prime novità e degli orologi più complicati e più affascinanti mai fatti nella storia dell'orologeria ma appunto andiamo per ordine ecco una rara immagine del quadrante di questo orologio un orologio ripeto dalle notevoli dimensioni da pavimento diciamo un orologio che ha una quantità di indicazioni astronomiche norme fu concepito nei primi del settecento da un matematico italiano faccini commissionato dalla famiglia farnese infatti l'orologio si chiama planisfero l'orologio farnese proprio per questo poi il conte di casetta lo presentò al papa all'inizio del novecento ed allora sta nei musei vaticani ripeto ci sono anche indicazioni relative alle condizioni atmosferiche e al tempo quindi veramente un orologio straordinario di complessità in un'epoca in cui ripeto non si conosceva tutto dell'astronomia e quindi era difficile se non sperimentalmente in modo piuttosto appunto sperimentale riuscire a dimensionare gli ingranaggi planetari questo orologio più livelli di ingranaggi planetari che cosa sono gli ingranaggi planetari l'ho già spiegato in un altro video ma ci torno volentieri sopra un sistema è epicicloidare quindi planetario quando abbiamo un sistema di ruote in cui almeno una delle ruote ha un'asse che ruota attorno all'asse della ruota principale quindi diciamo questo è il concetto prima di continuare con gli orologi restaurati e poi creati vedremo da ludwig oschleck dobbiamo subito parlare un po di storia precedente agli anni 80 di Ulysse Nardenne semplicemente qualche cenno storico Ulysse Nardenne è un orologiaio figlio di orologiai nato alle locle proprio nel centro del giura svizzero nel 1823 nel 1800 suoi maestri orologiai furono freddick william dubois e lui di Jean Richard che sono nomi che sono destinati ad essere molto famosi nel mondo dell'orologeria svizzera nel 46 fonda le locle la sua azienda Ulysse Nardenne e quasi subito si specializza in orologi di precisione in particolare orologi da marina che vende sia alle varie marine militari sia le compagnie di navigazione quindi orologi di precisione per la navigazione Ulysse Nardenne ricevette molti riconoscimenti internazionali voi sapete che l'orologia francese e quell'inglese erano al top all'epoca e lui nel 1870 qualcosa vince infatti il più ambito riconoscimento durante un'esibizione dell'orologeria inglese e divenne lui poi morì pochi anni dopo intorno al poco dopo il 1870 il figlio proseguì ed espansi ancora l'attività producendo ripetizioni minuti e orologi da tasca complicati e cronometri da marina da navigazione e alla fine pensate che rifornì dal 1902 la marina degli Stati Uniti ma poi riuscì a fornire anche la marina inglese la marina russa la marina militare giapponese insomma praticamente le varie marine militari alcune tra le marine militari più importanti del mondo utilizzavano lo giulis Nardenne quindi è un'azienda che ha avuto una grandissima fama una grandissima nomea e intorno al 1860 Elotti tra l'altro vince un concorso di cronometria a Neoschartel fu una delle case che vinse più concorsi di cronometria a Neoschartel diciamo che è un'azienda che poi appunto ha avuto diciamo così ha sempre mantenuto questa linea con gli orologi di precisione con gli orologi per la navigazione fino alla crisi del quarzo dopodiché ha le difficoltà di tutte le altre aziende o della più parte delle aziende svizzere fino a che poi appunto interverrà Rolf Schneider ma ne parliamo più avanti riprendiamo quindi con Ludwig Oschlenn dopo aver fatto questa parentesi penso non inutile riprendiamo dal restauro dell'orologio farnese dell'orologio astronomico farnese il restauro di questo orologio insegnò molto a Ludwig Oschlenn la sua filosofia lui l'ha spiegata non è semplificare non è semplificare cioè prendere qualcosa di complesso e farlo più semplice no lui costruisce la complessità semplicemente cioè semplificare significa ridurre qualcosa progettato in modo complesso lui invece concepisce la progettazione in modo che sia semplice il pezzo semplice da usare affidabile quindi fatto di poche parti del minor numero di parti possibile affidabile semplice da usare semplice da leggere e riuscire a studiare in modo semplice la complessità è qualcosa di estremamente difficile e forse è una delle difficoltà maggiori in orologeria e Oschlenn nella sua opera questo è riuscito a fare allora nel 1981 con un altro orologiaio aveva costruito un astrolabium cioè un orologio astronomico che in parte riprendeva la lezione imparata restaurando il planisfero orologio farnese quando nel 1983 Rolf Schneider imprenditore compra Ulysse Narden e decide di rilanciarla Rolf Schneider chiede a Ludwig Oschlenn se è possibile fare un orologio così complicato non come l'orologio farnese ovviamente ma complicato come l'astrolabio che aveva fatto nell'81 da polso e Oschlenn accetta la sfida e nell'85 presenta il primo pezzo della famosa Trilogy of Time Trilogy of Time cioè l'astrolabium Galileo Galilei un vero capolavoro che anni dopo fu premiato come l'orologio più complesso e al tempo stesso più semplice da usare mai costruito un vero frutto di genialità vediamolo da vicino e vediamo in cosa consiste vediamo le funzioni c'è la posizione del sole, della luna e delle stelle per tutta la giornata da un certo punto della terra con una certa latitudine abbiamo l'ora del sorgere del tramonto del sole l'indicazione dell'eclissi solare e dell'eclissi lunare abbiamo poi ovviamente mese, giorno tutti i dati astronomici più semplici e sicuramente ne ho dimenticati altri che cosa bisogna dire? che questa estrema complicazione è basato su un calibro chiamato UN33 che in realtà deriva da un cronografo Lemania Nouvelle Lemania su cui l'Oschlène ha costruito un modulo fatto di vari strati di ruotismi epicicloidali satellitari soli 40 mm di diametro di cassa e soli 12,8 mm di spessore di cassa davvero notevole per questa grande complicazione dimenticavo l'orologio indica anche i segni zodiacali e le stagioni va regolato una sola volta ogni 144 mila anni pensate e ora passiamo al secondo capitolo della trilogia of time cioè il planetarium Copernicus qui abbiamo un calendario perpetuo e abbiamo la rappresentazione analogica del sistema di Copernico quindi abbiamo gli astri che girano intorno al sole e la Luna che gira intorno alla Terra con le rispettive posizioni i segni zodiacali eccetera eccetera la base del calibro è sempre l'UN33 che deriva da questo cronografo Lemania sempre modulo con sistema planetario epicicloidale disse Oschlène che questo era più semplice meccanicamente del Galileo ma era più complesso dal punto di vista matematico praticamente stesse dimensioni di cassa ed ecco il terzo capitolo della trilogy of time sempre di Oschlène qui abbiamo sempre sulla stessa base un modulo con calendario perpetuo indicazione delle 24 ore indicazione dai poli della porzione di terra che viene illuminata dal sole indicazione dell'eclissi solare e dell'eclissi lunari e indicazione anche dei segni dello zodiaco 43 mm di diametro stavolta è il globo terrestre realizzato in smalto Croisonnais per chi non sapesse cos'è lo smalto Croisonnais vado a vedere i miei video sulle finiture sempre attuando la sua filosofia di rendere cioè anzi di progettare complessità in modo semplice riducendo il numero dei pezzi per un uso più semplice a prova di errore affidabile e preciso ecco che nel 1996 per festeggiare i 150 anni di Ulysse Narden Ludwig Oschlenn e Ulysse Narden presentano il Perpetual Ludwig che è stato il calendario perpetuo più innovativo fino alla presentazione del Perpetual Mother One che è del 2005 quindi di nove anni dopo allora cosa aveva fatto praticamente Ulysse Narden aveva eliminato dal calendario perpetuo la parte più costosa e più difficile da realizzare cioè le leve aveva fatto un calendario perpetuo solo con ruote solo con ruote in questo modo il calendario perpetuo era più robusto più affidabile a prova di errore infatti la data il giorno e il mese possono essere regolati sia avanti che indietro e questa è una primizia per il calendario perpetuo a cui il Moser Uno aggiungerà anche il fatto che sia istantaneo e aggiungerà anche il fatto che si può anche andare avanti e indietro a mezzanotte ecco questo ancora no nell'Ulysse Narden ma era già un passo in questo senso di questo orologio che poi è stato riproposto in seguito anche in edizioni con cassa più grande questo era aveva dimensioni ideali questo del 96 perché aveva 38 e rotti millimetri di diametro spessore ridotto un 33 sempre il calibro di base derivato dal Nouvelle Mania cronografo il Frick è davvero l'esempio nel 2001 di un orologio praticamente che destruttura completamente l'orologio fino a come si era conosciuto in quel momento con un design completamente diverso con un progetto completamente diverso e persino con un nuovo scappamento cosa che mi era sfuggita altre volte in cui parlavo del Frick che pure sapevo essere stato il primo orologio a usare il silicio allora vediamo alcune novità prima novità il calibro con tutti i suoi ruotismi è in linea come vedete e corrisponde alla sfera dei minuti cioè ruota fa un giro completo del quadrante in un'ora e quindi indica i minuti la sfera delle ore che ha questa forma particolare è mossa direttamente dal bariletto e fa un giro in 12 ore tradizionalmente è chiaro che avere tutto il calibro che ruota attorno al quadrante in un'ora vuol dire praticamente rendere inutile il tourbillon perché? perché l'errore di gravità viene corretto anche se più lentamente su un tourbillon normale scappamento ruota di scappamento e bilanciere ruotano di solito attorno al proprio asse in un minuto qui abbiamo una rotazione completa in un'ora però l'errore viene corretto ugualmente senza bisogno di gabbie di costruzioni diverse questo orologio poi non ha la corona perché si regola e si carica tutto dal lato B da una sorta ligliera che c'è nel lato B ma poi ancora ha uno scappamento nuovo e così sappiamo che Oxlaine è stato il primo e Ulysse Narden sono stati i primi a introdurre un nuovo scappamento nella produzione di serie di orologi perché questo scappamento è uno scappamento con due ruote che agiscono simultaneamente danno energia a un piccolo meccanismo cioè l'idea è quella di avere uno scappamento diretto il più possibile naturalmente non può essere completamente diretto perché altrimenti l'orologio non si avvierebbe da solo ma è diretto quanto più possibile e quindi abbiamo queste due ruote che danno un doppio impulso per ogni oscillazione del bilanciere le due ruote consentono anche di avere una maggiore inerzia ma soprattutto è un sistema molto più semplice rispetto a quello dell'ancora a leva e ovviamente con la sua inclinazione con le sue frizioni radiali qui non ci sono le frizioni radiali e per riuscire a fare questo scappamento lo Schlen l'aveva adottato in precedenti orologi fatti da lui non per Ulysse Nardenne e aveva cercato di convincere Rolf Schneider ad adottare su qualche Ulysse Nardenne questo scappamento ma Schneider si era sempre rifiutato sul Frick accetta di farlo e quindi lo fa e lo fa e per farlo deve farlo in silicio e quindi abbiamo qui il prima la prima applicazione del silicio sugli orologi ora voi sapete cosa ne penso io non torno sull'argomento ma capite che il valore di chi lo fa per prima è diverso rispetto a quello di tutti gli altri e comunque qui c'era un uso creativo con un nuovo scappamento quindi siamo in un ambito diverso il Frick esiste ancora oggi naturalmente in versioni diverse alcune anche semplificate alcune paradossalmente complicate rispetto alla prima versione un grandissimo orologio le indicazioni poi del Perpetua Ludwig si hanno a partire circa dal 2005 con abbinato Sveglieri cioè al calendario Perpetuo fatto da Ludwig Oschlen su casse di maggiori dimensioni si aggiungono anche la funzione GMT e anche la funzione Sveglierino con risultati estetici a volte non del tutto convincenti ma ora passiamo a ciò che è importante e torniamo su Oschlen Oschlen fra il 2002 e il 2014 diviene direttore del museo dell'orologeria di La Schottfond sempre nel giura svizzero voi sapete è addirittura il paese da molti ritenuti il più centrale del giura svizzero per quanto riguarda l'orologeria svizzera e ci sono tante cose che sono accadute e accadono alla Schottfonda che peraltro è un delizioso piccolo paese siamo sempre vicini alle Locre siamo sempre vicini a Neuchatel eccetera eccetera allora lui come diciamo lascia ovviamente in Ulysse Nardenne tutte le sue idee tra l'altro piccola parentesi L'Ulysse Nardenne vede la morte di Rolf Schneider nel 2011 l'attività viene gestita dalla moglie che però nel 2014 vende a Kering cioè a Pinot a Pinot che secondo molte è il secondo gruppo del lusso francese dopo il gruppo di Bernard Arnault quindi è il WMH quindi vende a Kering Lui quando è direttore del museo di La Schottfond ripeto smette di costruire orologi però lui negli anni aveva proposto molte idee a Rolf Schneider alcune le aveva accettate altre no perché li teneva troppo semplici e riduttive per un marchio come Ulysse Nardenne che faceva lo ricordiamo anche ripetizioni minuti con Automi è stato l'unico per tanti anni a fare ripetizioni in minuti con Automi di solito a sfondo erotico ma non solo e quindi alcune di queste idee che non erano state accettate da Schneider ora Oshlein poteva metterle diciamo così in poteva realizzarle ma alcune di queste poi erano state già realizzate in orologio Ulysse Nardenne e per la generosità di Rolf Schneider prima della sua morte lui poteva utilizzarle lo stesso così per esempio partì dall'idea di fare un calendario in linea un calendario perpetuo in linea ora voi sapete che il calendario perpetuo in linea il primo che l'aveva fatto era stato Patek Philippe su un orologio da tasca ref 725 degli anni della seconda metà degli anni 40 poi ci sarà Roger Dubuis che farà un Excalibur 45 perpetuo in linea con o senza tourbillon con o senza ripetizione minuti ma perpetuo in linea con grandata e tutto a dischi quindi lui nel nel dopo il 2002 vuole fare il primo in linea dopo dice non potevo metterlo nel centro del quadrante l'ho messo di lato e a quel punto fonda il marchio nel 2006 Ox and Junior che gli consente appunto di fare quello che non ha potuto fare con Ulysse Nardenne e che gli consente quindi di semplificare al massimo la meccanica ma anche di creare un'estetica del tutto nuova del tutto nuova alternativa per i suoi orologi realizzando complicazioni semplici e anche economiche molto sorprendenti ora io non starò a fare tutta la storia degli orologi Ox e Junior diciamo che porterò tre esempi di sublimi realizzazioni di Ox e Junior che ovviamente testimoniano la continuità della filosofia di Ludwig Ochlen andiamo subito a vedere primo esempio di Orologio Ox e Junior noi abbiamo semplicemente una fase lunare con indicazione della data e vedete com'è strano e particolare il quadrante vediamo di spiegarlo perché Oxlen riesce nella genialità col suo sistema planetario e col suo design di raffigurare le interazioni fra luna sole terra nella maniera più semplice possibile allora a ore 12 quel disco d'oro è il sole il centro delle sfere rappresenta la terra sotto abbiamo la fase lunare cosa succede che ovviamente la luna piena ce l'abbiamo nel momento in cui la luna si trova a ore 6 cioè perfettamente in linea con la terra e con il sole e questa è la luna piena la luna nuova viceversa si ha quando la fase lunare si trova a ore 12 cioè esattamente come giusto fra la terra e il sole e infatti non si vede vedete che lì non c'è perché perché in quel caso la luna ovviamente non può essere vista dalla terra e quindi era il momento in cui la fase lunare non si vede poi abbiamo i 31 fori che indicano la data secondo il sistema di Oshlen che vedremo anche in altri orologi naturalmente questa fase lunare si aggiorna una sola volta ogni oltre 3400 anni in questa foto voi vedete il calendario annuale vedete anche i soli 5 componenti che Oshlen aggiunge al calibro base per fare il calendario annuale vediamo come funziona come è indicato sul display no? ci sono quei fori che sono 31 indicano ciascuno la data poi abbiamo ore 6 i giorni della settimana e ore 12 abbiamo il mese sempre con questi punti che si spostano e con questi meccanismi epicicloidali e tutto si regola dalla corona non ci sono e ovviamente è un calendario che sia giusto essendo annuale una volta l'anno il primo marzo e ora voi vedete il calendario perpetuo che aggiunge soltanto 9 pezzi modificandone altri 3 alla base tempo e fa il calendario perpetuo voi pensate che roba con indicazione di data mese giorno della settimana senza fasi lunari vedete qui i 9 pezzi famosi è qualcosa di pazzesco e al tempo stesso semplice naturalmente tutto si aggiusta dalla corona senza bisogno di correttori avanti e indietro quindi ecco spero che abbiate la pazienza di leggere i pochi punti di questo manifesto di Ox in cui ci sono tutti i principi che ispirano la casa e io trovo che siano particolarmente significativi e spieghino per intero una filosofia che paradossalmente secondo ma non poi troppo secondo Oshlenn è l'opposto di quella seguita dall'alta orologeria che persegue la complicazione il numero di parti le finiture no i orologi hanno una funzionalità che per Oshlenn è più importante della bellezza e della preziosità e va detto i prezzi sono piuttosto conseguenti e soprattutto affidabilità semplicità anche di uso e pensate non c'è nemmeno il logo sul quadrante cosa che mi fa gioire perché tanto questi orologi si riconoscono comunque dovunque e non hanno bisogno del logo e io sono contento ecco è arrivato il momento di concludere il video cosa dire io per sommi capi perché poi la questione Ox & Junior è molto più complicata nel senso che ci sono molti modelli un po' anche per tutte le tasche ma ho cercato di spiegarvi l'incredibile cioè l'incredibile la geniale filosofia di Oshlenn superiore no diversa diversa a tutte le altre e con aspetti di superiorità che non vuol dire che i suoi siano i migliori orologi è un modo diverso di fare gli orologi con alcuni aspetti di indubbia genialità e avete visto come si può declinare da orologi preziosi come la trilogy of time a orologi più semplici e più economici come quelli prodotti dal suo marchio indipendente con un'estrema semplificazione che Rolf Schneider non aveva accettato per Ulysse Nardenne e in parte anche comprensibilmente però ecco credo di aver fornito quei punti che poi consentano a ciascuno di approfondire singoli aspetti di una vita di una storia che continua e che sono veramente straordinari grazie per aver visto il video e al prossimo video grazie ancora iscrivetevi e gli iscritti sono sempre pochi a questo canale grazie ancora